Un progetto che mira la qualità, la qualità urbanistica all'interno delle nostre città, la qualità architettonica, la qualità della natura che esprime anche Gabicce, che è la nostra porta sul mondo perché il turismo che entra da nord attraversa il San Bartolo proprio attraverso Gabicce. La regione non poteva essere indifferente a questo valore aggiunto per la regione Marche da un punto di vista turistico e ha finanziato con circa 1 milione e 500 mila euro, a quali si aggiunge una contribuzione dell'amministrazione locale, questo nuovo accesso alle spiagge di Gabicce ma soprattutto alla zona ricettiva turistica con un ascensore panoramico che si affaccia sul mare. Un investimento importante per un territorio dove il lungomare è la fondamenta, sono le mattonelle fondanti di questo luogo. Beh, spiagge bellissime, quelle donate dal cielo a questo territorio e noi le dobbiamo sfruttare al massimo rispettandole. È quello che stiamo facendo a Gabicce, è quello che facciamo sul San Bartolo, è quello che cerchiamo di fare in tutte le spiagge marchigiane. In un territorio come quello della provincia di Pesaro Urbino che ha trainato il turismo anche nel 2023 con i dati di Pesaro e auspichiamo ancora di più quest'anno con Pesaro, capitale italiana della cultura, di aumentare questi dati, non solo italiani ma anche stranieri e poi di destagionalizzare perché questi territori sono belli non solo d'estate ma durante tutto l'anno.